Il campo Castrum ormai è una realtà ed è veramente un orgoglio per me vedere come i lavori proseguono e stanno volgendo verso il termine. Il manto erboso di ultima generazione è pronto, è un impianto che ha ottenuto in nulla osta della Lega, del Coni e dei Vigili del Fuoco perché sarà un impianto fruibile fino alle gare della serie D. Un gioiellino, un gioiello al posto di un impianto che sta qui da oltre 40 anni e che in 40 anni non aveva subito nessun intervento, non era adeguato, aveva visto generazioni di giocatori giocarci su ma non era più adeguato. Un impegno importante nell'ambito del contratto di quartiere di un milione di euro, le ditte per contratto dovranno riconsegnare il lavoro finito entro la fine di settembre, ma di questo ringrazio tutti coloro che ci stanno approfondendo risorse e energie. Mi hanno assicurato che potrà essere anticipato il termine della riconsegna dei lavori per poter inaugurare questa opera al servizio di tutte le squadre di calcio operanti nel nostro territorio, sono tante, e di tutti quei giovani che, come ho fatto io ai miei tempi, potranno calcare questo campo ma avranno il privilegio di farlo su un campo veramente che è un gioiellino per l'intera regione Abruzzo.